Già Luigi, le vacanze sono sotto al teatro della Fenice, qui ad ingresso, è una delle meraviglie di Venezia, è una delle cose che non deve mancare durante i tour che facciamo. Mi raccomando, quando staccate da letto per entrare a Venezia, tenete presente una passeggiata davanti a una delle cose più belle che il mondo ci ha lasciato. Più tardi continuate a seguire le vacanze. Ciao!